Va bene, respira. Va bene, vedi che ci stanno gli uomini, così. Ti posso fare? Un po'. Va bene, mamma. Guarda, respira. Come stai, disegnete? Muori fuori, chiedi così? Allora, fateli qualche domanda, vediamo come reagisce. Che sarà la fa? Aspa. Che? Fai riguardo a questa domanda. Ma c'hai le gambe pesanti, no? No, però che sento rigastare. Che sarà la fa? Guarda, questo va bene. No, perché adesso c'è una cosa, quando si guarda l'idea, perché voi, io l'ho detto, sono un po' la residiva, che riguarda il lavoro. Ti viene da ridere perché voi la fatete più troppo buffi. No, ti mando ridere.